Ragazzi, ve lo dico, Marez, lo dico ai tifosi romanisti, Marez, sognatelo. Il motivo, questo era un breve video, il motivo ce n'è uno. La Roma non vuole uscire i soldi. Allora, la Roma non vuole uscire i soldi, perché? La Leicester ha detto, all'inizio aveva detto 45, si è abbassato a 40, ha detto da 40 né 1 euro di meno né 1 euro di più. Allora, 40, la Roma presenta l'ultima offerta per Marez di 35 milioni. A quel punto, dopo 35 milioni di Marez, siccome la Roma ne ha questi 40, molto probabilmente, siccome è l'ultima offerta perché i soldi non li vogliono uscire, io fossi la Roma a 40 milioni da darei veloce per Marez. Però, siccome, sinceramente, la Roma, niente, non vuole uscire questi soldi, siccome Marez non sarà mai, non mai, ma non sarà un giocatore della Roma. Quindi, niente, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Se ciò ci mette un like, fatevi solo, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Noi ci vediamo alla prossima.